Un periodo definito drammatico dall'amministrazione comunale di Lamporecchio, un'altra, dice il sindaco Alessio Torrigiani, emergenza internazionale. Dopo gli anni del Covid, ora, l'esplosione dei costi dell'energia che impongono una razionalizzazione dei consumi, che significa interventi sui consumi di luce e gas per evitare di dover rimodulare il bilancio e sacrificare servizi ai cittadini ed escludere un eventuale aumento delle tasse. Tanto per dare qualche numero il comune di Lamporecchio ha avuto per il 2022 maggiori costi per circa 260 mila euro, in parte coperti da trasferimenti governativi per 80 mila euro, il resto a carico del comune. La situazione ci impone questo, nonostante il comune di Lamporecchio negli anni abbia investito in maniera lungimirante sulla riduzione dei costi dei consumi e dei costi dell'energia, con pannelli fotovoltaici, l'illuminazione pubblica, attraverso la sostituzione degli impianti di riscaldamento e caldaie con tutti i sistemi a basso consumo. La Giunta ha predisposto un pacchetto di misure per ridurre questi costi e riportarli a livelli pre-crisi, tra gli interventi previsti la riduzione degli orari di accensione dell'illuminazione pubblica nelle strade e nei parchi e la drastica riduzione delle luminarie natalizie. Chiusura totale di tutti gli edifici pubblici il sabato, nella giornata di sabato, che comprende ahimè anche la biblioteca e l'URP. Qualcosa che sarà visibile a tutti nei prossimi giorni, l'illuminazione natalizia che subirà una drastica riduzione. Certo, anche quella lì fa parte del pacchetto di provvedimenti, ha un effetto immediato perché noi ogni anno installavamo l'illuminazione pubblica sul centro del capoluogo in maniera estesa e su tutte le frazioni. Quest'anno abbiamo scelto di ridurla proprio alla via centrale del paese e stop. Il pacchetto di interventi avrà durata temporanea fino alla prossima primavera.